Ciao a tutti! Allora, oggi ci andiamo a preparare un classico dei panini romani, pizza e mortazza, però rivisitato. Quindi che ci servirà? Croccoletto pieta, io ho già messo l'acqua a bollire, adesso lo vado a svolentare, poi li ripassiamo con peperoncino e aglio. Poi che facciamo? Ci andiamo a tritare la mortadella e andiamo a creare degli hamburger di mortadella. Allora, che facciamo? Per andarci a preparare un classico che stanno svolentando, poi ce li ripassiamo. Allora, togliamo la pellicola alla mortadella. Perfetto, ci andiamo a tagliare a pezzi, perché poi andiamo a frullare. E intanto facciamo questa, così vediamo. Pizzettini. Pizzettini al mixer. Andiamo a creare una sorta di tritato di mortadella, tipo carne tritata. Pizzettini al mixer. Adesso la nostra mortadella è tutta tritata, che facciamo? Andiamo a prendere un tartufo, un'acqua, un tartufo nero, ce lo andiamo a tritare. Che profumo! Aspettate che sono negativamente la tritata qua. Voilà! E' uscita l'acqua. Quindi ci mettiamo a mettere due i tartufi. Et voilà! Poi ci serve il bianco dell'uovo, che ci aiuterà ad amalgamare il tutto. Perché andiamo poi a creare degli hamburger di mortadella. Ecco. E poi ci andiamo anche a preparare i medaglioni, quindi i medaglioni di mortadella o hamburger, come per esempio. Ok. Una volta finito di ripassare, questo ce ne mettiamo da parte. Intanto andiamoci a preparare i medaglioni. Mentre le verdurine vanno, noi ci andiamo a creare i nostri hamburgerini di mortadella. Quindi schiacciamo bene. Et voilà! Noi, però... Ve MAR1 No Mi hanno manifiesto con cura, se no... Escono davanti a persi. 2 E' un po' di mezzo. Perfetto, andiamoci a soccolare i nostri hamburgerini. Facciamo anche un altro. Sì! e profumo ok, andiamo a rosolare questi hamburgerini e una volta pronti andiamo ad impiantare già è ottima così intanto mettiamo la piastra per scaldare la pizza ok? a strappogo perfetto, abbiamo acceso la nostra piastra e ci andiamo a scaldare la pizza e poi andiamo a farcire mi sta avvenendo l'acquolina in boccia ok, qui veniamo appena pronta la pizza la nostra pizza è calda andiamo ad aprire e andiamo a creare il nostro paniano ecco uno e due e questa è la nostra pizza e mortazza rivisitata con mortadella, tartufo e verdurine ripassate non c'è spettacolo che lo andiamo ad assaggiare eccoci qua adesso ce lo andiamo ad assaggiare eccoci qua adesso ce lo andiamo ad assaggiare mortadella interno fuoco nero e però con il piatto di passata con algo che è ben uscito come una cosa e ragazzi come una cosa cosa ma mer Сегодня ce d'essore E' una poesia Trovatela Mi mostro di solo questo Ascrivetevi al canale Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao